eccoci qua ciao a tutti ciao ben trovate allora penso che possiamo iniziare come dite? puntualissime grazie è bello rivedersi così in video in questa modalità così informale molto collettiva speriamo interessante per tutti noi una rapida presentazione intanto introduco me che sono deputata a coordinare un po' questa chiacchierata di oggi e io sono qua in una duplice veste duplice e trutice ho partecipato a questo libro con un capitolo l'ho visto nascere anche attraverso progetti che ho visto svilupparsi all'interno di Fondazione Corini Stampaglia con Chiara con Anna con Nicole con cui ho collaborato in vari tempi e momenti e l'ho visto anche così con l'osservazione di chi fa ricerca su queste materie quindi è interessata a queste tematiche oggi proviamo a fare un po' il punto sul libro un libro che è senza titolo un titolo molto significativo da questo punto di vista e allora proprio per iniziare a parlare di quello che c'è sotto questo senza titolo ed entrare un po' più dentro il contenuto del libro proverei a fare una domanda una domanda a tutte voi a partire da Chiara che forse è quella che va più dentro il tema principale il nocciolo del tema delle didascalie e poi proseguiamo e quindi la prima domanda che vi pongo è questa dateci una lettura del libro dal vostro punto di vista quindi dal punto di vista del vostro contributo quindi partirei da te Chiara Chiara e subito dopo Anna che hanno in condivisione anche questa loro progettualità dentro il il contenitore di ABC città quindi siete qui oggi con noi con questa con questa maestra Allora questo libro voleva essere uno strumento duttile e soprattutto capace di sistematizzare la riflessione che c'è in corso su questo tema il mio capitolo apre il libro e introduce una serie di altre questioni che sono poi affrontate dai colleghi e io penso abbia proprio il merito in questo momento storico anche rispetto a pubblicazioni straniere che parlano degli stessi temi di aprirsi a più piani di approfondimento che è una cosa sicuramente un aspetto innovativo ecco il titolo del tuo libro il titolo del tuo capitolo è ruolo di evoluzione delle didascalie museali potenzialità e sfide di un'esperienza interpretativa c'è molto in questo cos'è la parola più importante nella tua parte quella che rappresenta di più il cuore del tuo contributo nel libro non verrebbe da dire sfide chiaramente l'intenzione era quella di tracciare fare ordine all'interno di quella che è la la prospettiva sia storica di questo strumento ma soprattutto processuale perché le didascalie sono chiaramente un elemento che noi collochiamo all'interno del museo e vanno lette all'interno di una cornice in cui sono sempre in relazione sia con lo spazio sia con i visitatori per cui dal mio punto di vista era utile innanzitutto definire che cos'è una didascalia e poi aprire la strada ai contributi successivi grazie lascerei per adesso questa questione delle didascalie in senso più questa dimensione della sfida che ha richiamato Chiara per passare ad Anna e chiedere qualcosa di più specifico una sfida mi sembra che sia anche la sfida identitaria della riscrittura identitaria che è al centro del tuo tema del tema del tuo capitolo che appunto ha questo titolo riscritture identitarie come vedi tu questo aspetto e cosa qual è stato il tuo contributo da questo punto di vista nel libro come lo racconti allora diciamo che la riflessione sul fatto che il museo è un pezzo della società quindi il museo non è in reazione alla società il museo non è in risposta a quello che succede il museo non è in ascolto il museo è la società e tutti noi che nei musei cerchiamo di lavorare progettare interagire riflettere proporre evidentemente siamo dentro questa complessità per cui il fattore dell'elemento della riscrittura l'elemento della definizione di identità che sono in trasformazione storica culturale sociale dal mio punto di vista dal nostro punto di vista è sicuramente fondamentale il tema se vogliamo è quello di un museo che appunto esprime la sua contemporaneità un museo che esprime l'inserimento all'interno di una rete complessa e quindi in quanto tale è consapevole delle dinamiche è consapevole di quello che succede intorno in termini tanto di lotte identitarie quanto di rivendicazioni quanto di conflitti sulla piccola scala sulla grande scala e via dicendo quindi un museo che davvero è attore all'interno di questa rete complessa quindi il fattore della riflessione sull'identità è un fattore fondamentale d'altra parte il museo nasce proprio storicamente antichissimamente per riflettere proprio di questo per riflettere di che cosa è simile di che cosa è lontano di che cosa è vicino di che cosa ci rappresenta di che cosa in qualche modo può costituire un aiuto per costruire un racconto di identità che sono complesse in evoluzione penso che in questo momento storico forse lo avvertiamo in modo ancora più più urgente e più chiaro che in passato quindi non si tratta tanto di come dire accompagnare ma si tratta proprio di essere in mezzo a quelle maglie di una riflessione che si fa nel tempo allora riflessione identitaria riguarda tantissimi aspetti riguarda il concetto di identità e di alterità riguarda il concetto di essere il concetto di patria il concetto di nazione di essere stranieri di la propria appartenenza da punti di vista sempre più complessi la contemporaneità ci aiuta molto perché davvero di tutti questi temi si sta dibattendo tantissimo penso appunto a tutto il lavoro su questioni che riguardano l'appartenenza politica la fluidità di genere la questione delle migrazioni su cui in questi giorni per fortuna si sta facendo una riflessione anche molto interessante avanzata da parte di tanti antropologi storici sociologi e via dicendo quindi ecco come dire penso che ci sia una responsabilità da questo punto di vista questo voglio dire il museo non è quell'amico che ti accompagna mentre tu cammini ma il museo è attore protagonista di questo percorso grazie grazie è molto è molto utile ed è diciamo ci permette di collegare il terzo il terzo anello di questa di questa serie di questo primo round che è il contributo di Nicole Mulausen Nicole Mulausen che ha una veste molteplice no? ricercatore ricercatrice anzi ricercatrice freelance con varie esperienze in ambito museale e che nel titolo sceglie una parola che è resistenza no? in questo titolo nella resistenza ma anche prospettiva di crescita rispetto ai musei come ci racconti il tuo il tuo lavoro all'interno di questo libro? ma dunque il mio lavoro la mia riflessione riguarda soprattutto i musei d'arte per cui resistenza e prospettiva di crescita allude un po' all'idea e alla resistenza che è spesso accompagnata i musei d'arte nell'abbracciare una comunicazione accessibile in maniera più forte rispetto ad altre tipologie di museo spesso la comunicazione nei musei d'arte se guardiamo le didascalie tende a essere più tradizionale e disciplinare tuttavia si stanno diciamo ravvisando tutta una serie di trend che fanno sì come l'opera d'arte in realtà possa essere interpretata da diverse prospettive per cui all'interno del libro si cerca di riflettere su come guardare all'opera d'arte da diverse prospettive e quelli che sono poi un po' gli impatti anche a livello di gestione dei processi organizzativi all'interno del museo e anche sulle professionalità per cui un'idea forte che credo emerga un po' in tutto il libro e che cerco di sottolineare è che comunque mettere in discussione la scrittura di una didascalia da un punto di vista di accessibilità e coinvolgimento dei pubblici significa mettere in discussione anche un'idea di museo e quindi ripensare tutta una serie di equilibri al suo interno e nel rapporto anche con l'esterno per cui significa mettere in discussione il significato che diamo alle opere o alle collezioni e guardare da una prospettiva interdisciplinare significa abbracciare nuove professionalità per cui non più solo curatori e architetti nei processi di investimento ma anche professionalità che si occupano di accessibilità di pubblici di interpretazione significa in sostanza anche rompere delle gerarchie e vedere i pubblici i fruitori non solo come destinatari di un processo ma come interlocutori attivi all'interno di un'azione culturale e sociale Sì tutte queste cose che tu hai introdotto queste parole che hai introdotto chiaramente rappresentano molto bene le sfide le sfide che abbiamo già detto prima le resistenze potenziali a tutto questo e le prospettive di crescita che però sono anche prospettive che devono fare i conti con una complessità che aumenta immagino nel senso della gestione di tutti questi elementi perché rompere gerarchie coinvolgere i fruitori cioè si parte da una didascalia che poi può essere vista come una semplice descrizione magari più coinvolgente più interattiva che si coinvolge un dialogo e si entra in un complesso sistema che va ripensato e organizzato a partire da quella didascalia che sembra essere racchiudibile in poche righe di descrizione di un'opera da questo punto di vista qui è interessante sentire il punto di vista di Marigusta Marigusta Lazzari in quanto direttrice della fondazione Corini Stampaglia poi quella complessità la affronta la gestisce la vede ecco la fondazione Corini Stampaglia è parte anche di questo libro anche perché è oggetto del racconto ad esempio io ho raccontato come autrice di questo libro ho messo il mio pezzo nel racconto di questa fondazione qual è la tua prospettiva e come vedi il libro dal tuo punto di vista allora per me per la fondazione questa pubblicazione è una sintesi la sintesi di un'esperienza il racconto la tappa di un percorso è la testimonianza proprio di un processo di cambiamento molto importante perché questo percorso poi è nato da una necessità nel 2015 la fondazione era impegnata nel compito di trovare in modo di vincere una sfida a proposito di sfide ed è quella dell'annoso problema della sostenibilità economica della nostra istituzione avevamo predisposto un piano di riequilibrio del bilancio che noi chiamiamo Q2020 perché doveva arrivare al suo compimento proprio quest'anno che aveva tra le sue linee strategiche anche il miglioramento e l'incremento dell'accessibilità e del coinvolgimento del pubblico quindi i processi di cambiamento che il piano e le sue linee strategiche ci costringevano ad attuare anche all'interno della nostra organizzazione andavano preparati andava pensato un percorso di formazione e anche l'analisi delle nostre attività così uno dei primi passi che noi abbiamo fatto all'epoca è stata proprio l'analisi dei visitatori del museo che abbiamo fatto col supporto di ICOM e di NICOL cercando di tracciare proprio un profilo del nostro pubblico e cercando quindi di capire quali erano i desiderati dei nostri visitatori l'anno successivo poi abbiamo ampliato questa analisi a tutti i fruitori dei nostri servizi quindi anche agli utenti della biblioteca e per farlo abbiamo in qualche modo fatto interagire in modo trasversale settori diversi dal museo nella organizzazione e poi abbiamo interagito soprattutto con uno dei luoghi più giovani della nostra istituzione che è proprio la biblioteca che è un centro proprio di attrazione abbiamo coinvolto per questo anche una destina di studenti di Ca' Foscari e abbiamo mappato il processo di visita dei pubblici recuperando e individuando punti deboli poca informazione disorientamento ma anche recuperando una consapevolezza che ci mancava all'epoca che la visita alla fondazione era soddisfacente produceva pur non essendo esaustiva produceva però un'elevata soddisfazione quindi diciamo che la ricerca aveva evidenziato la necessità di valorizzare e comunicare in modo diverso i nostri servizi e le nostre attività e aveva evidenziato che dovevamo porci come obiettivo la rielaborazione e l'attualizzazione dei significati tradizionali delle collezioni proprio perché questo ci permetteva di aprirci a nuovi pubblici e anche affermare il senso e il ruolo dell'istituzione nel territorio e nella collettività quindi la fondazione andava comunicata sia come luogo storico che come luogo contemporaneo attuale aperto un luogo dove si ritrova la città le sue moltissime storie le sue tradizioni ma anche il vivere quotidiano la socialità i ragazzi si ritrovano alla quelline dovevamo quindi ripensare la comunicazione la narrazione insomma le nostre strategie comunicative e quindi qui ha preso vita un terzo progetto devo dire che Ca' Foscari al dipartimento di management ci ha molto accompagnato e quindi ringrazio anche qui Monica Calcagno e Fabrizio Passo per questo accompagnarci ma dicevo che il terzo progetto ha coinvolto il mondo delle imprese creative e soprattutto una piccola società di librai indipendenti il libro con gli stivali che ha uno spazio commerciale appunto a mestre allora noi avevamo capito che il visitatore vuole sentirsi vuole ascoltare sentirsi raccontare vuole vivere le tantissime storie che il museo può raccontare con le sue opere con le sue collezioni e quindi ci siamo posti come obiettivo di rafforzare proprio l'impianto narrativo quindi con la regia della libreria abbiamo attivato delle attività di formazione per il personale personale non del museo personale impiegato in ruoli diversi in ambiti diversi quindi mettendo insieme anche esperienze competenze diverse per provare a sperimentare una narrazione che fosse più coinvolgente che fosse più interessante più curiosa nel 17 nel 2017 un'altra tappa importante è stato in corso le metafore della didascalia che abbiamo proprio organizzato in collaborazione con Abicittà quattro giornate pensate per i professionisti museali che ci hanno dato devo dire l'occasione di fare una riflessione proprio sul tema della didascalia come strumento di mediazione e interpretazione a cui è seguito un secondo corso sempre con Abicittà sul coinvolgimento dei pubblici che ci ha confermato abitiamo nella direzione nella direzione che avevamo intrapreso proprio di ripensamento dei ruoli e del compito dell'idea oggi nella società nel tessuto sociale e questo percorso è stato di rilievo anche perché abbiamo attivato una serie di collaborazioni importanti con l'Università Ca' Foscari di cui ho già parlato ma anche con l'Università Juava con la collezione Peggy Buchenheim con Palazzo Gras ma devo dire che questo percorso è stato fondamentale per la nostra struttura organizzativa a cui sono stati forniti nuovi strumenti di metodo con cui abbiamo investito con risorse e competenze proprio in un'ottica di formazione aggiornamento continui e questo processo di rinnovamento della comunicazione al pubblico ha prodotto quasi in modo naturale anche un ripensamento proprio della struttura organizzativa della fondazione organizzativa e gestionale e ha determinato anche una analisi della nostra missione della nostra identità ecco questa attività poi continuerà questa indagine questo indagare su queste tematiche proseguirà anche il prossimo autunno con un altro corso di tre giornate sulle didascalie e musei dalla teoria all'azione di cui abbiamo le informazioni sul sito della fondazione bene grazie Marigusta è stato un quadro molto complesso pieno di componenti e di stimoli e tutto quello che diverse parole che hai utilizzato hanno messo in evidenza il potere di questa piccola cosa apparentemente piccola cosa che può essere una didascalia che è una narrazione che può essere utilizzata per un coinvolgimento più attivo partecipato delle persone ma in realtà apre uno sguardo a quella che è la relazione con la città col territorio con i pubblici le collaborazioni quindi hai citato collaborazioni istituzioni territorio dimensioni che sono tutte parte di un'azione sociale quindi la seconda domanda che farei a ciascuno di voi in un secondo giro magari più breve perché probabilmente queste cose sono già emerse un po' nel primo giro ma sarebbe interessante farle brillare di più qual è il potere qual è il ruolo della metafora dal punto di vista del suo impatto sociale perché una delle cose su cui tutti noi anche in quest'ultimo periodo molto particolare ci siamo interrogati è proprio se l'arte e la cultura non rischino di diventare nuovamente intrattenimento intrattenimento magari anche gratuito perché è giusto che sia così ma in realtà dimenticando il potere e il ruolo sociale di questi luoghi che non può essere solo quello di intrattenere di divertire ma è molto di più e quindi anche rispetto alle metafore vi chiedo la vostra prospettiva su questo non so se magari vuoi partire Nicole tu in questo caso e andiamo un po' al giro della nostra conversazione dunque sì anche dalla mia prospettiva sicuramente l'idea di concepire le didascalie come degli strumenti che devono avere un impatto sulla società è una prospettiva importantissima e credo che questo obiettivo si possa verificare o cercare di attuare attraverso principalmente due strade una strada è quella di includere diverse voci all'interno dei processi di interpretazione delle collezioni nel senso che credo che nel 2020 non possiamo più immaginare che siano solamente lo staff del museo e i professionisti museali gli unici interlocutori nei processi di interpretazione del patrimonio è necessario appunto democratizzare questi processi e il museo credo ha bisogno di coinvolgere attivamente le comunità a cui intende rivolgersi in questi processi per cui dal punto di vista pratico mi vengono in mente esempi di collezioni dove da un lato vi è la spiegazione da un punto di vista curatoriale ma dall'altro abbiamo anche persone di comunità diverse che oggi non sono scoperte le onde e un'altra prospettiva penso sia invece quella di cercare continuamente di fare collegamenti tra l'interpretazione delle collezioni della cultura e tematiche d'attualità io appunto ragiono sempre sulle collezioni d'arte però penso che molti temi che stanno all'interno della storia dell'arte si ritrovano anche nell'attualità questo religioso l'abuso di potere politico i ruoli di genere i temi delle migrazioni sono comunque temi che fanno parte della storia ma del presente per cui perché non immaginarsi delle didascalie che a partire dall'interpretazione dei temi del passato siano però appunto anche capace di farci riflettere sull'oggi e quindi di inserire appunto le collezioni all'interno di un dibattito che riguarda l'attualità del presente vissuto delle persone che visitano le istituzioni è chiaro che sono prospettive che comportano delle sfide anche se forse analizzate da un punto di vista narrativo la sfida non scoglie ancora credo consistente riguardi più che altro anche un cambiamento forse anche di mentalità e di rinuncia finalmente all'idea che il museo la cultura sia neutrale è chiaro che queste non sono più posizioni possibili sono sicuramente molto sostenute esplorate nelle letterature su questi temi però sulla pratica sicuramente possiamo fare ancora delle sperimentazioni grazie Michele richiamerei la parola sfide per richiedere quindi la stessa cosa a Chiara anche dal punto di vista non solo del suo contributo nel libro ma dal punto di vista anche della sua attività professionale e quindi della varietà di situazioni e sfide che affronta dal punto di vista appunto della dimensione sociale dell'impatto ufficiale delle didascarie Allora le didascarie ci ricordano sempre che noi abbiamo a fare con destinatari diversi ed è questa sostanzialmente la principale complessità che ci pongono aggiungo ovviamente condivido la riflessione di Nicole e aggiungo anche che come dire alle didascarie è richiesto di essere certamente accessibili accessibili in senso lato vuol dire per esempio essere uno strumento utile a quante più persone possibili ma anche uno strumento capace di moltiplicarsi nel momento in cui nella sua dimensione nella sua fisicità non sempre può raggiungere tutti i pubblici e questo significa che il classico cartellino può essere affiancato a più strumenti che si diversificano in termini chiaramente di legibilità e di comprensibilità se vogliamo ma che si possono diversificare anche sul piano interpretativo per cui non necessariamente un museo che decide di assumere una dimensione anche sociale quindi farsi portavoce di tematiche di un bisogno urgente che oggi tutti i musei sono chiamati ad affrontare può affiancare quella che è la sua proposta esistente chiaramente ad una nuova produzione un altro tema che io credo sia importante oltre all'accessibilità in senso così come l'ha accennata è quello anche per cui le didatterie possono scostruire gli stereotipi e lo possono fare di nuovo nell'esplicitare temi solitamente e aspetti e gruppi sociali marginalizzati come raccontavano Chiara e Anna ma lo possono fare davvero attraverso le scelte che assumono per cui significa appunto immaginare che esistano pubblici diversi e quindi nel metodo farsi portavoce di una nuova consapevolezza grazie a questo punto rifaccio ad Anna la stessa domanda sempre dal suo punto di vista sia rispetto al contributo che rispetto alla sua attività questa questa sfida questa sfida sociale come la vedi tu? Ma la vedo molto bene nel senso che mi interessa moltissimo e mi ha sempre colpito da quando abbiamo iniziato a collaborare questa diciamo caso di studio di Fondazione Querini Stampale in cui c'è una radice storica potentissima e un'identità proprio culturale molto forte ma al tempo stesso una grossa capacità di sbilanciarsi di andare a interpellare esperti esperienze storie di campo e via dicendo in questa tensione fra un'identità molto forte e una volontà di ricerca molto forte che come ha detto la direttrice ricade poi su tutte le persone che lavorano nella fondazione quindi non è soltanto un episodio isolato ma è un patrimonio che poi va veramente a crescere insieme alle persone che lavorano in fondazione ecco in questa tensione si sviluppa io credo il ruolo il compito del museo contemporaneo quindi io penso che non ci siano delle formule buone per tutti non ci sia un va de mi su come si fa la didascalia in questo periodo ci è capitato che tanti dicessero ok allora l'esperta di come si fanno le didascalie come si scrivono come vanno fatte eccetera eccetera no ovviamente non è questo non è questo il tema proprio perché parliamo della didascalia in quanto metafora in quanto metafora della volontà di provare a rispecchiare una riflessione una riflessione storica una riflessione sociolinguistica e questo è molto importante una riflessione anche nell'ambito della delle neuroscienze per esempio come si parla come si legge come si scrive come il nostro cervello si confronta col testo scritto nel momento in cui è andato in un museo e quindi il nostro cervello è come dire cercato sul fatto di andare a vedere qualcosa non a leggere in che modo la conoscenza si costruisce attraverso questa enorme anche fatica di attraversare delle parole di attraversare delle immagini e di aggregarle fra di loro in modo tale che possano in qualche modo diventare nostre ecco allora questo è in qualche modo il percorso che abbiamo fatto fino adesso e che continueremo a fare attraverso questa sperimentazione della fondazione appoggiandoci a chi questi temi li sta studiando oltre a noi noi in particolare diciamo l'esperienza di abicità è un'esperienza proprio di campo nel senso che noi lavoriamo partendo dalla progettazione partecipata con uno sguardo che sta diciamo tra l'architettura l'urbanistica le scienze sociali quindi intersecando diversi saperi io e Chiara in particolare ci occupiamo proprio di museologia cercando di fare da ponte anche questo per noi è una metafora è un esperimento molto interessante professionalmente fare da ponte fra quel mondo proprio di campo di prima linea che lavora nelle periferie che lavora in contesti di rigenerazione urbana eccetera eccetera e un ambiente come può essere quello del museo con tutte le connotazioni che ha assunto storicamente quindi ecco tutto questo per dire che appunto è un processo un processo fatto da gruppi di persone che si aggregano in modo variabile ma proficuo e che io penso sia in in ulteriore espansione e è proprio quello che stiamo cercando di costruire come come progetto aggiungo soltanto una cosa brevissimamente cioè che appunto nel libro c'è anche il contributo di Enrico Giori che si è occupato di un aspetto proprio di di design e di leggibilità delle didascalie raccontando alcune esperienze interessanti e di Maria Elena Colombo che ha intervistato James Bradburn direttore di Brera proprio perché è un altro caso di studio per noi particolarmente interessante quindi ecco questa dimensione come dire un po' collettiva proprio di di gruppo di persone che riflettono su questi temi è più che mai importante forse corrisponde anche a un modo di apprendere che mi sembra più funzionale in questo periodo storico grazie a questo punto Mari Gusta questa dimensione sociale che è una dimensione collettiva all'interno della struttura all'interno della fondazione ma è anche una dimensione collettiva che si confronta con un sociale intorno e nel quale la fondazione sta e opera come l'hai vista in questi anni in questo periodo poi ci sposteremo anche sulle prospettive future ma in questo momento qual è il tuo sguardo rispetto a questo? Io partirei da tre parole Anna ha parlato di responsabilità del museo Nicole di sfide e Maria Chiara di consapevolezza allora questi tre termini devo dire fanno parte proprio del nostro sentire in questo momento noi stiamo tentando un'altra sfida che è quella di rinnovare le didascalie del museo il nostro è un museo d'ambiente è una casa museo che ha tantissime storie da raccontare ma quello che noi stiamo cercando di fare è di lavorare su piani diversi su tre binari paralleli ma complementari cercando di raccontare storie diverse di raccontare personaggi invisibili così li abbiamo chiamati cioè personaggi che fanno parte della quotidianità dei nostri racconti della nostra storia ma che non vengono mai citati e parlando anche di questioni di genere partendo ovviamente dai dipinti antichi questo perché quello che vogliamo fare è coinvolgere affascinare il nostro pubblico dandogli stimoli capacità di farsi domande di pensare criticamente cioè di vivere l'esperienza della visita come un fatto sia estetico sia di crescita di approfondimento ma anche di identificazione con la storia di ciascuno di queste persone con il territorio in cui vive e poi penso che anche attraverso le didascalie appunto che sono dei si possono pensare come a dei foglietti con poche rivestite sopra noi possiamo attivare delle azioni che possono contribuire all'obiettivo alla missione grande diciamo della nostra fondazione che di tutte le istituzioni culturali che è quella di anticipare di proporre temi sensibili di attualità cioè di sollecitare riflessioni studi e approfondimenti penso che questo serva moltissimo oggi e lo studio delle didascalie ci dà modo di arrivarci in tanti modi diversi bene grazie grazie Mari Gusta io farei un'ultima domanda a tutte quante che è una domanda che tra l'altro ci poniamo tutti noi in questo momento chi studia chi opera chi lavora in particolare in questi contesti che sono particolarmente toccati ma in tutti i contesti non solo in quello culturale non solo in quello artistico ma in generale la grande domanda è come ripensare modelli come ripensare scenari futuri perché non è sufficiente pensare di tornare indietro non è mai interessante tornare indietro bisogna sempre andare avanti e usare quello che oggi ci viene richiesto ci viene imposto da cambiamenti che avevamo assolutamente non considerato nei nostri scenari e ripensare ripensare cambiare modelli rendere più sostenibili innovare sperimentare da questo punto di vista molti libri molte pubblicazioni molti dei nostri lavori di semplicemente quattro mesi fa ci sembrano diventare subito vecchi nel momento in cui li vediamo oggi quando sembra che sia passato un anno due anni interi dall'ultima volta in cui abbiamo pensato certe cose in particolare c'è la dimensione del digitale la sfida digitale in qualche modo ci siamo trovati tutti quanti a navigare in un mondo che è questo che è quello anche oggi della nostra conversazione in cui diversamente da come avevamo immaginato stiamo chiacchierando in questo modo confrontandoci sul fatto che magari guardiamo fuori dalla finestra ma non vediamo un interlocutore non ci guardiamo in faccia quando parliamo dobbiamo inventarci un interlocutore di riferimento quando parliamo perché siamo da soli davanti a uno schermo siamo confrontati sempre con la nostra immagine quotidianamente siamo stanchissimi a fine giornata e la digitalizzazione è un grande volano una grande chance una tecnologia un linguaggio da sperimentare e anche diciamo non sicuramente da subire ma non è neanche una piattaforma che ci deve diciamo asfaltare su un'unica scelta un'unica opzione possibile se voi doveste di pensare quindi vi chiedo innanzitutto come autrici dei vostri dei vostri contributi oltre che come curatrici perché tra l'altro non l'ho richiamato ma insomma Anna, Chiara e Nicole sono le tre curatrici anche del volume che oltre a essere collettivo è stato curato da loro come riscrivereste tra qualche mese per raccontare questo periodo il vostro contributo o una nuova edizione rivista post questo periodo in questo momento partirei a questo punto da Chiara ritorniamo al giro iniziale e quindi iniziale da Chiara allora per quel che riguarda il libro io credo si tratta semplicemente di riosservare il contesto e quindi rendersi conto nel mio caso quali sono le nuove barriere con le quali ci confrontiamo e quindi quali soluzioni più adeguate per metterle in discussione e in discussione tentare di abbatterle questo da un lato per quel che riguarda il libro e per quel che riguarda anche insomma il mio futuro per quel che riguarda Abicittà credo che la riflessione che si è fatta con i colleghi sia molto interessante lavorando sul piano della partecipazione della facilitazione insomma un mondo dove il confronto insomma sembra imprescindibile quello che è emerso è che ci siamo resi conto che la buona progettazione quando un progetto o un percorso di facilitazione è solido ecco il fatto che sia gestito anche in una dimensione digitale non ne inficia la qualità degli impatti e questo insomma in qualche modo ci dà speranza da ricalibrarsi ovviamente anche nello specifico nostro posso posso chiederti una cosa ulteriore che mi è venuta in mente ascoltandoti le didascalie sono anche uno strumento in questo senso il contributo di Bradburn la intervista fatta a Bradburn che chiude chiude il libro è significativa perché sicuramente James Bradburn nelle sue esperienze precedenti e poi in Brera ha sempre lavorato su una dimensione sociale interattiva collettiva cioè la didascalia come momento di azione interazione performativa anche nel luogo che vuol dire persone vuol dire vicinanza vuol dire fare gruppo lavorare maneggiare materiali eccetera questa è una una nuova barriera da affrontare nel ripensare la didascalia da questo punto di vista in questo momento lo chiedo a Chiara perché ritorno un attimo a Chiara poi vorrei fare la stessa domanda anche ad Anna chiaro direi che è in in generale soprattutto una questione di accessibilità cognitiva per cui la nostra come cambia il nostro modo di approcciarci a dei contenuti come cambia chiaramente la motivazione come cambia l'attenzione nei confronti delle cose che andiamo andiamo a leggere e a percepire per cui di nuovo su questo quello che sarà importante fare ora è davvero anche molta ricerca grazie e vorrei sentire anche così che cosa ne pensa Anna di questo aspetto non futuro e anche rispetto a quest'ultima domanda in particolare che avevo fatto a Chiara la tua riflessione Allora sì sono due domande difficili ma insomma provo a dire quello che sto un po' così osservando e vivendo in questo periodo insieme a tanti colleghi e colleghe con cui ci confrontiamo allora la dimensione del digitale della didattica a distanza di tutto quello che è stato messo in campo io credo che lo capiremo fra moltissimo tempo e quindi con molta tranquillità e anche un po' di come dire forse bisogno di lasciar decantare le tante informazioni che abbiamo ricevuto in questo periodo i tanti punti di vista le tante mi viene da dire che forse serve un po' una sorta di piccola davvero estate di mezzo che ci faccia forse osservare lasciar decantare e anche un po' valutare capire che cosa comunica e che cosa no non parlerei di che cosa funziona e che cosa no perché non mi piace questo concetto al tempo stesso penso che sicuramente c'è stato un grosso scatto di crescita questo sicuramente è un grosso momento di riflessione poi che cosa succederà però mi viene da dire almeno io personalmente ma ne abbiamo parlato appunto anche con Chiara che è colleghia di abicità in generale ecco come dire questa rapid response questa cosa per cui bisogna per forza dare una risposta immediata ecco non lo so non credo che sia tantissimo al nostro modo di procedere credo che in questa confusione che ci ha attraversato e di cui siamo stati involontariamente attori forse serve un po' di tempo per chiarirsi le idee emergono emerge dal mio punto di vista un aspetto fondamentale che è quello che è stato messo in evidenza da tantissimi cioè l'Italia ha funzionato su registri diversi la tecnologia è diffusa soltanto in alcuni contesti non vogliamo vedere la movida quanta movida c'è nelle piazze ma vogliamo vedere quante persone lavorano in fabbrica in che condizione cioè come dire le riflessioni da fare sono veramente tante e complesse quindi ecco in questo senso forse un tempo di osservazione è necessario per quanto riguarda la riflessione appunto diciamo Bradburn Brera e collettività altrettanto penso che sia davvero figlio della stessa riflessione cioè in fondo la riflessione di Brera ma di tanti altri musei di querini stampali ma veramente potremmo citarne tanti a livello italiano internazionale è una riflessione evolutiva cioè idea di base credo che sia che non c'è niente di male a cambiare le proprie didascalie cambiare il proprio approccio riscriverle eventualmente firmarle nel momento in cui sono diciamo un'affermazione uno statement di un curatore o di un altro perché no e nel momento in cui evidente invece uno sforzo collettivo certo sarà un po' più difficile mettere a punto delle didascalie collettive se questo è l'obiettivo ma a questo punto siamo abbastanza strutturati da capire che certamente non è impossibile ecco riassumendo direi che forse potremmo pensare di avere bisogno di un po' di tempo per capire tante cose per capire anche in qualche modo quale può essere il ruolo dei nuvii in questo momento storico il tempo che è la risorsa più preziosa in questo momento che invece di solito ci sta mancando sempre di più perché in realtà senza riflettere molto stiamo agendo e stiamo prendendo decisioni di giorno in giorno tempestivamente ma non troppo in maniera riflessiva nel senso così a reazione più che altro reagendo non tanto riflettendo e ripensando ricordo tu come ti poni rispetto a questa a questa domanda anche rispetto alle tue esperienze tu sei stata spesso all'estero hai avuto vari momenti in cui ti sei confrontata con realtà che ad esempio su fronte delle tecnologie della digitalizzazione della messa in opera di varie modalità di interazione neanche supportate più fortemente dalle tecnologie sono riuscite a fare cose molto interessanti poi si è rientrata in Italia e quindi hai avuto sempre questo duplice sguardo sempre rivolto all'esterno ma anche connesso con la valorizzazione di quello che c'era qui e tu come vedi come vedi questa sfida e questa prospettiva ma diciamo che rispetto al tema del digitale il periodo e le trasformazioni che stiamo vivendo credo che abbiano messo in evidenza una consapevolezza molto forte che già era nell'area ma quindi forse si è evidenziata ovvero che l'era digitale in cui viviamo non ci richiede semplicemente di fare un salto dal punto di vista della tecnologia e degli strumenti ma è soprattutto nella maniera più profonda una questione di mentalità l'era digitale ci chiede di trovare nuove modalità di lavoro più collaborative più partecipate abbracci ai principi della condivisione ci chiede di fare in qualche modo lasciare e mettere in discussione dei ruoli delle gerarchie e degli schemi di potere e per cui diciamo nel libro in un certo senso pur non si sofferma diciamo a distinguere sui strumenti cercando di fare delle diluzioni tra logico e digitale trovo in un certo senso delle conferme rispetto al fatto che dobbiamo riflettere soprattutto su che idea di partecipazione abbiamo che sia a scuola che sia al museo che sia in un'aula che sia fisica o virtuale per cui per esempio in questo periodo rispetto a altre esperienze che ho avuto all'estero nel consiglio soprattutto rivolto anche alla didattica e all'università penso per esempio dove ho studiato all'università di Leicester dove la maggioranza dei corsi sono fatti in modalità distance learning ma questo non significa registrare le lezioni che vengono fatte in classe e trasportarle sul digitale tale e quale significa ripensare in maniera integrale la didattica questo è forse un ragionamento che può valere all'università e non alle scuole elementari però diciamo che il punto credo sia prendersi del tempo per riflettere in maniera profonda sui contenuti sulle modalità di condivisione di questi contenuti e di come creare della partecipazione cercando di comunque dare valore a una sorta di scambio umano di contatto umano che è quello che comunque ci aspettiamo sia a scuola che rispetto alla domanda che hai fatto più ampia diciamo su come rileggeremo a distanza di un anno il nostro contributo da un lato appunto come dicevo troverai delle conferme che stanno un po' nell'idea che tutte mettiamo rispetto al fatto che è importante mettere in discussione il modo in cui lavoriamo a partire dalla didascalia però a 360 gradi dall'altro però mi piacerebbe pensare in una maniera più esplicita al potenziale attivismo delle istituzioni culturali sono temi che sono latenti nel libro sono temi che appunto ho tirato fuori con le domande che ci hai fatto però mi piacerebbe immaginare sia a livello di sperimentazione nei corsi ma anche a partire dalle esperienze che stiamo facendo di ricerca e di lavoro e dalla situazione che stiamo vivendo mi piacerebbe riflettere in maniera più esplicita e diretta come cercare effettivamente di fare la differenza nella vita delle persone a partire dalla cultura perché quello che stiamo vivendo sta mettendo in evidenza in maniera sempre più esplicita e diretta che non possiamo dare alla cultura per scontata e che dobbiamo trovare nuove modalità per avere un senso nella vita delle persone a questo punto la stessa domanda per Mari Gusta ma con una smotola diversa perché Mari Gusta in quanto direttrice di una fondazione che ha una lunga storia e un vissuto molto fatto di vicinanza di ritrovarsi in stanze eccetera il digitale che cosa significa questa digitalizzazione unita a questo che è un distanziamento un controllo della vicinanza tra le persone eccetera come direttrice della fondazione rispetto al futuro beh in questo periodo noi abbiamo cercato delle modalità come hanno fatto tutti i musei e tutte le istituzioni culturali per arrivare alle persone attraverso il digitale arrivare attraverso delle piccole pillole di informazioni attraverso delle cose anche che potessero rendere divertenti e coinvolgenti anche i vecchi tomi i vecchi manoscritti le incisioni quello che però io devo dire ho fatto all'inizio di aprile nel pieno di questa crisi di questa situazione così drammatica è stato di promuovere proprio all'interno della Querini con i miei responsabili dei servizi una riflessione sul futuro della nostra istituzione e sul futuro dei nostri servizi quindi non ho una risposta da dare diciamo che la riflessione che io ho chiesto riguarda sia temi che cambiamenti anche radicali e riguarda anche la città in cui questa istituzione ha operato in questi 150 anni la città in cui viviamo lavoriamo i nostri pensieri vanno a una strategia di lungo termine orientata sì alla conservazione ma anche allo sviluppo nello stesso tempo alla definizione di priorità chiare cioè di scelte coraggiose cioè in realtà a progettare in modo strategico in un contesto che non coinvolga solo l'arte il design l'architettura la formazione che è un po' il centro del nostro lavoro ma anche l'ambiente la città il territorio che va valorizzato coinvolto attraverso la didattica l'attenzione per i pubblici speciali il volontariato che è uno strumento straordinario di coinvolgimento sociale insomma vorrei insieme appunto a tutta l'organizzazione della Querini investire e scommettere sulle nuove generazioni cioè la nostra biblioteca è frequentata normalmente da tantissimi giovani che addirittura trovano il modo per entrare prima dei 16 anni perché è solo così che costruiamo il futuro il nostro futuro e questa attenzione particolare che anche il territorio chiede i residenti ci siamo accorti in questi mesi quanto pochi siano i residenti a Venezia centro storico quanto ci siano gli studenti pendolari ma anche le giovani famiglie che vanno in qualche modo aiutate a trovare una contestualizzazione quindi dobbiamo puntare sicuramente sull'educazione sulla ricerca l'innovazione su una ricerca però di avanguardia attraente dobbiamo porre l'attenzione a servizi che siano pensati anche per coinvolgere nuove attività nuove imprese settori produttivi che siano un po' creativi tecnologici ma anche quelli che fanno la storia di questo posto restauro artigianato tradizioni del mare culinarie allora io sto parlando della Querini ma in realtà non è questo di cui ho parlato quello che serve anche alla comunità alla città a un territorio anche più ampio sì sicuramente questa benizia in questo senso è l'esempio più eclatante no di una di una necessità di ripensare il ruolo di città il loro destino la loro funzione le persone che vivono la città e gli attori le produzioni chi la vive chi la abita da questo punto di vista le immagini che ci riporta Venezia sono sempre un contrasto molto forte in questo momento di una città che sembra essersi svuotata di quello che era il suo pubblico principale che era fatto di turismo in grandissime quantità e che oggi deve trovare non può certo riflettere pensando di ritornare ad un modello che era così insostenibile perché sarebbe assurdo pensare che una città debba essere vincolata a un modello così insostenibile per poter sopravvivere salvo trovarsi di fronte ad altre crisi nei momenti di emergenza che potrebbero essere di qualunque tipo insomma e d'altra parte mentre chiacchieravamo di queste cose ci preparavamo a questa conversazione una settimana fa anzi giusto un giorno o meno di una settimana fa c'era una nuca su Venezia che è passata è arrivata forse non è stata neanche tanto raccontata e la cosa si è chiusa lì però era simbolicamente e assolutamente fisicamente presente a ricordarci questa complessità e l'importanza di prendere in mano queste tematiche seriamente e di affrontarle insieme alla città ma io non voglio rubare tempo e spazio a domande che possono esserci tra chi ha ascoltato e chi ha voglia di fare una domanda di porre una domanda una domanda del pubblico e ecco ho dimenticato l'editore ho dimenticato di citare l'editore ho fatto più una conversazione con le autrici non raccontando appunto i dati principali della pubblicazione che è l'editore nomos edizioni e di questo libro bellissimo che spero di avere in mano prima o poi perché la cosa è che in questa emergenza io stessa l'ho avuto solo in pdf quindi me ne sono stampata è molto bello tra l'altro è rosso ha un bellissimo titolo una bellissima copertina eravamo pronte per una presentazione fisica eravamo pronte a riceverlo e questo libro si è smaterializzato come per magia e quindi io adesso io ne ho una ma poi la cartuccia di stampa mi si è esaurita e più senza la stampa quindi questo è la dramma e dato che avevo fatto la stampa ho iniziato a fare la stampa di tutto il libro poi ho stampato l'ultima pagina non ho stampato la prima quindi non ho neanche la copertina non posso neanche mettermi una copertina lì per ricordarmi diciamo quindi ricordiamo questi questi dati che sono importanti e non vediamo l'ora di poterlo avere in mano questo libro almeno per me vedo le conversazioni più che altro vedo i commenti non ci sono domande col punto di domanda col punto interrogativo non so se voi avete scovato se ci sono domande sicuramente ci sono conferme di questa nostra chiacchierata della fine della nostra chiacchierata pochi residenti non dimentichiamoci poi che ci sono non solo i residenti ma ci sono le comparse della città nel senso che ci sono i residenti che vivono in città e poi ci sono tra virgolette le comparse che sono tutti coloro che poi lavorano nella città e arrivano la mattina e escono la sera che all'improvviso sono scomparse perché perché sono rimaste chiuse nelle proprie abitazioni e oggi magari pur essendo più libere di muoversi hanno il problema della logistica del trasporto e del raggiungimento della città quindi abbiamo una città che veramente deve affrontare non pochi temi ma questi sono secondo me effettanti o particolari a Venezia che è un caso eccezionale ma in realtà poi si vede la similitudine con altre grandi città cosiddette creative o culturali o capitali culturali che nel momento del lockdown si sono svuotate e sono rimaste prive di quelle che sembravano essere le comunità più importanti che però sono andate altrove quindi in realtà questa riflessione che abbiamo iniziato a fare è una riflessione che va molto al di là penso dei nostri confini penso che anche a Milano ci sia una riflessione in corso che si chiama il destino delle città creative pieni di eventi pieni di meeting che raggruppano persone che sia turismo di lavoro turismo di cultura o altro e che devono trovare una dimensione di vivibilità di sostenibilità di felicità delle persone che devono stare in questi spazi e non solo fuggire al momento in cui questi spazi diventano una costruzione quindi tutti noi siamo ancora parte di questo esperimento non so voi ma per quanto mi riguarda alla fine siamo rimasti tutti chiusi in casa a lavorare tantissimo quindi in realtà siamo ancora tutti molto molto in quarantena una quarantena intensamente lavorativa ma sempre una quarantena ecco io cosa dite siamo arrivate è bello vederci tutte assieme perché così almeno anche se siamo tutte più piccole nell'icona però è più così è più collettiva è molto più collettiva e piacevole il tempo della nostra diretta credo che sia finito qui no? sì possiamo solo ricordare che la Querini è aperta abbiamo aperto la biblioteca martedì martedì scorso è aperta su prenotazione e il fine settimana i prossimi fine settimana sarà aperto anche il museo gratuitamente sempre con la prenotazione perché ovviamente dobbiamo cercare di tenere tutti i parametri della sicurezza e dell'attenzione appunto per il diffondersi di questo virus ma siamo aperti ci siamo veniteci a trovare grazie Maria Gusta vedo una domanda vedo l'ultima nella chat una domanda Maria Luisa De Bin che ci chiede che cosa intendiamo chiaramente immagino rispetto anche alla fondazione possiamo fare per gli artisti locali che vorrebbero avere una possibile vetrina beh la fondazione è una vetrina per molti artisti locali noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare con Elisabetta Di Maggio con Maria Morganti con Mauro Sambo ci sono molti artisti locali con Anita Sief e quindi ovviamente il tutto è sempre un passaggio legato ad un'analisi a una riflessione sulla modalità di operare e sui nostri progetti però lo spazio c'è sempre stato in Queerini per gli artisti locali e anche quelli internazionali bene bene e grazie quindi mi sembra che abbiamo dato una prima risposta quindi ci saranno commenti approfondimenti intanto grazie per questa per questa partecipazione per questa diretta grazie alla fondazione qui in stampaglia che ha organizzato anche la parte di regia oltre che quindi ci ha ospitati in qualche modo non in fondazione grazie a tutti voi per questo bel progetto grazie grazie alle curatrici grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo libro a Nomos Edizioni che l'ha prodotto e l'ha stampato e a tutti quelli che hanno partecipato nel pubblico ai commenti che sono tutti belli positivi e che così ci hanno stimolate in questo momento è stata la nostra prima diretta Facebook e quindi se l'abbiamo fatta adesso possiamo rilassarci non è caduta la linea non sono passati i gatti dietro non è mancata la luce non ha suonato un pannello il cellulare abbiamo silenziato tutto abbiamo anche le banderie di Nicole dietro che sono assolutamente queste aiole sono bellissime abbiamo fiori e quindi ci incontreremo spero al più presto dai perché bisogna entrare in questo schermo non si può continuare così quindi in qualche modo ci incontriamo oltre ai sorrisi servono gli abbracci sì non so con i guanti con i guanti lunghi con le macchine con qualcosa certo bene grazie grazie ciao grazie 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 grazie